se dovremo essere infatti ce dovremo allora controlla se ci siamo sul tuo telefono comunque se ci siamo bella si ok vlog ma poi mentre aspettiamo che entrano oggi ragazzi siamo insieme a frenix iscrivetevi al mio canale che è arrivata la notifica della quanto bella questa bellissima persona si è bellissima intanto vado a fare una partita ma perché siamo in live ragazzi guardate quanto è figo il minion quanto arrabbiato intanto faccio il baule della corona che ieri ho trovato la principessa nel baule della corona bobo mettiti vicino alla fisca un tipo di giro magari allora vediamo un poco come gioco intanto è una 2 vs 2 questa cosa qua guardate il mio deck ball mettiti a fuoco aspetta lui parte con mettiti a fuoco ok vabbè si è messo a fuoco dai in teoria dovreste vedere così si in teoria ci sarà una live lunga non dico un tutt'ora ah lo trovate le cuffie ecco beh ormai a poveri il tuo canale la whisper va bene dai l'ultima volta che abbiamo fatto la whisper il pecca mi ha messo il pecca che porca miseria è fortissimo cioè a livello 3 un mi piace una persona che ci segue bella chiunque tu sia inviace un commento vabbè intanto non rischia di giocare perché non posso mentre abbiamo trovato le cuffie per dopo la whisper challenge ok un commento vediamo un poco chi ha scrivi ciao ciao creeper bianco 56 ciao creeper bianco 56 la scintilla no la scintilla no non dare il colpo non dare il colpo comunque stiamo facendo questa live come un vlog come un vlog rispondiamo alle vostre domande quindi fateci domande che rispondiamo che classe fate e nemmeno vi possiamo dire dove abitiamo no questo io gli dico la vostra casa si vabbè vive vive assata da quanto è in attivo io in attivo da qualche mese si perchè ma ho avuto problemi con la scuola non è vero perchè dovevo fare i credit lasciatelo stare ho avuto problemi con la scuola e oltretutto perchè la scuola è iniziata come sapete che annoia e comunque pure ho avuto problemi di ram tante cose quanto amo la scuola perchè miseria scrivete qua sotto quanto amate la scuola cosa amo no 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 se in questa live arrivo allora io ormai nelle mie live c'ho una tramandanza uno di vita uno di vita uno di vita no no voi ora vi faccio vedere il replay uno di vita c'era capito che cosa no io nella mia live c'ho delle proposte a quanti live arriviamo e dimmi la proposta vabbè arriviamo a 10 like 10 like? 15 15 like e che cosa succede? che cosa facciamo? ehm la ice bucket se troppo troppo congelata 3 commenti salvo tu perchè non fai più video no in realtà si ho iniziato il nuovo canale se non l'hai visto valla a vedere il nuovo canale adesso ho fatto la presentazione del canale ehm in teoria più tardi appena torno a casa dovrei fare un video su minecraft inizio non sto facendo cose brutte ragazzi c'ho c'ho le cuffie oh non sto guardate cioè cioè paranormal paranormal va bene mischini ci stai facendo venire ahahah c'ho raga guardate che uomo fai figo della madonna figo della madonna c'ho è intanto sto per completare un obiettivo facciate che storo so ahahah non solo com'è ah eh è se non lo fai ti uccido e vabbè uccidimi no 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 te l'ho detto c'è il nuovo canale freniz aspetta allora fai una proposta allora se arriviamo allora 15 like sono troppi 10 like aspetta te lo faccio vedere il like appena arriviamo a 10 like a 10 la a 10 like pure al 10 like che si fa non lo so allora se ragazzi questo video raggiunge 10 like salva nel suo canale ehm fatemi pensare fatemi pensare fatemi pensare guarda metti a fuoco ho fatto la presentazione mi chiamo selbus però nel video avrei avevo detto friends però vabbè non posso cambiare più il nome è scritta al contrario però quelli dettagli che bella cosa ehm se arriviamo a 45 like se esageri una volta nel mio video quello della leggendina è un po' un amaggio ma boh ci penso quanti like e quanto visualizzazioni c'è un casino grazie a quel video ho fatto tipo iscritti cioè lo devo ripubblicare però prank tipo faccio le ui le ui ragazzi se questo video raggiunge i 10 mi piace insieme a salvo faremo lui si chiama mattia già lo sapevano ehm se arriviamo a 10 mi piace no 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 questa combo non basta 30 volte puzza combo non me la puoi fare ah se arriviamo mi puoi fare tutte le combo del mondo ma questa no ok se arriviamo a 10 mi piace ragazzi salvo come sei rizzato ai capelli no no non posso no sto scherzando ehm faremo una ehm prova a non ridere con il calcio è normale che la registriamo ora appena ci sono i like la mettiamo ma questa cosa non sarà mai provata il 10 like ci arriva si va bene uno spettatore in live e ancora creeper bianco ma tu quanto sto bestramiando da 1 a 10 quanto? dai fateci domande così rispondiamo ovviamente no domande private ma bofate no risponde salvo ma cacchio ma perchè è sempre io no 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 ma perchè pure tu il boscaiolo a livello 2 non posso avere solo il boscaiolo a livello 2 non posso avere solo il boscaiolo a livello 2 due mi piace ok ok ciao chiunque tu sia spettatore però due mi piace due spettatori eh due spettatori dove è Mark Player Mark Player io c'ho uno che mi segue su minecraft sul mio canale che l'ho incontrato pure su minecraft che si chiama Mark Key One che è uno dei miei famigli no 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 non devo fermare no poti si muore 5 commenti bene vediamo un poco chi è ciao raga sono Giovanni ciao specatrice che non ho menti ehm esiste guardate i miei jeans quanto sono figli mi sta facendo vedere come si chiama ahia 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 oh due fuori legge vai 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 cacchio cacchio si te frega aspetta 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 vai vieno a vedere però se sei vero clapa chi abbia clapa ma perchè mi comunque sono stati assenti perchè ho avuto problemi con la scuola mentre arrivano ciao gabbi ciao 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 gabbi e ciao eh chelina speriamo non guarderanno mai questo video comunque si si non ci credo no e la mando no 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 la spera infuocatela infilo su ehm sono le 3.49 quella quella spera infuocatela lo sai dove gliela infilo o meglio che non dove non batte i sogni dai raga fate domande che voi fate domande e rispondiamo rispondiamo che decca di cacca che c'ha questo c'è c'è uno meglio c'è c'ha eeeh aspetta 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 quello mio è meglio decca voglio dire c'è fuori legge che poi c'ho sei leggendario perchè ho trovato due volte il bostaiolo sapete che si dice shish con la h finale? si si forse shish dai fate domande dai fate domande intanto quelle o fate domande a mazzafreni noogafrenix ma perché chi ammazza i tuoi non puoi ammazzare i tuoi fan no 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 ora ti faccio far dallo citando te Noi commenti Noi vogliamo Shish Bravo Matteo Renzi Raga fate domande Se no rimaniamo ancora un po' Dici commenti Che scuola andate Eh questa cosa è privata Privata cioè noi la possiamo Lo sanno che siamo a Palermo quindi Allora andiamo Alla No non si può dire E' una cosa privata magari siete fan I nostri di Palermo Appena usciamo venite Ciao pazzi Cosa è private queste sono Giustamente non cose private Perché vuoi a chi dice cose private Mi piace il mio pedone Magari è pestato La cacca Casi muore una brucia No 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 mischini Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Oh, è la fuorileggia tra vecchina No, mi ha fatto posizionare Dai, raga, fate domande Non state là a scrivere cose da mente Altre domande Altre, altre Eh, volevi Il copimento 13 commenti No, non le copi E allora fate domande Dai, fate qualche domanda Uh, tre corone Madonna L'ho visto a terra Cioè, è bello che Ci ha toccato torre questo I soldi Money Li sbatto tutti in faccia Sei coyota Chi sarà mai questa persona Non si saprà mai No, non le copi No, non le copi Qualcuno vuole un pennarello in regalo? 32 euro Un regalo Qualcuno vuole questo in regalo? Ma distendi Do un minio in regalo 30.000 euro Se raggiungiamo 30 Figa E tac, figa C'è la smart C'è ancora 13 commenti Guarda 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 No, no, no Vai a vedere il live Te devi morire È proprio un male male Ragazzi, sente? Scriveteci qualcosa Dai Mi sto annoiando Diteci se si sente Se il volume va bene No, Maria Io esco Il vocale è perfetto E a tutti i geni Metti 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 Sti tre moschettieri Metti Metti Sti tre moschettieri Mettili E mettile E amoni Metti Sti cacchi Puzzano i tuoi colori Ah, vabbè Ora Non l'ho capito I danni Con i tre moschettieri Vedendo Cosa vuol dire Puzzano i miei colori Cioè Stai dicendo qualcosa Non l'ho capito Esce E' bello Entri nella live No, non posso Entri nella live Per vedere se si sente Aspè Sto facendo Una partita Va bene No, no Ma se non sei È in diretta Tra che apri Io Sono proprio io Sto facendo Una partita Va bene A te Ho appena detto 60 60 60 60 Si sente Forte e chiaro Dai Scrivete Piccio Cioè Vuoi E' figo Della madonna Cioè Che amici Facciamo un video Su Littibot No 15 commenti Si sente Ehm Fate Delle domande Sembra Sembra l'inizio Che tra poco inizia una partita E ce la dobbiamo andare a vedere Una battuta I daltonici Non possono andare A colorado No Dopo questo No Non posso Non possono andare In colorado Bello Tu magari sai Ovviamente è scarso Cioè 16 commenti 16 commenti Non c'è Guarda E' quello Quello sei tu Ragazzi Dici Iscrivetevi al suo canale Ma dai Vi ho fatto vedere il mio canale Quindi iscrivetevi Perché se non vi iscrivete Se non vi iscrivete Viene a farvi iscrivete Intanto lui gioca a Littibot Aspettando a voi E' ovvio Non c'è Scriveteci qualche commento Perché intanto siete solo due Ma due E' per fare il costo Ah boh due Due per ora Appena Tipo arriviamo a mezz'ora di live Iniziano ad entrare Ragazzi Già siamo Che cacchio dici Questi pecca Salvo posso chiamarti Dice il creeper Per dice Di fare la live contro Dai chiamalo Che ti frega E' una due contro due Ma tu sarà una 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 Verso due Ti piglio A tu un po' Una Unì Aspetta a te Che bello Il nascondo FIVA 17 E' fatto al spread 3 Baionetta L'eco pirata Non ce l'hai La doma di FIVA 17 E' 18 Non è uscita Guarda Da me si Oh da me tu A Gigi Per gli amici Guarda qua Sono compatibili Il Xbox One E il 360 Con il Xbox One Si ma tu non puoi giocare Insieme a me Sapete Cosa fa una vacca Con un fusile Troppo vecchia Aspettando Creeper bianco Che ci chiamano Dai Creeper Chiamalo Questa è stata Non si torna Non bevo con c'hotel Forse ho rito anche mio I problemi Ciao Mr. Kevin Eccolo il mio iscritto preferito Ciao Gabà Ciao Gabà Iscriviti al mio canale Lui è FranX Il suo migliore amico Aspetta Lo chiamo Lo chiamo Lo chiamo Ci siamo Ci siamo Sono Mr. Kevin Bene bene È un pochino basso Avvicinando un pochino Aspetta Lo metto un attimo Ok vai Aspetta un secondo C'è un attimo accetta Ok Almeno credo che Si dovrebbe sentire Infatti Diteci se si sente La voce Di creeper bianco Ok che bello Zero Ah no C'è il copyright Adesso è come il copyright Aspetta Sono mio Ma cosa copyright Ah questo è tipo Un nucleotano Il copyright Nella tv Nei programmi della tv C'è il copyright Forse è di Roma Ma è di Toscano se non vuole Si sente male Non ti riesco a sentire Creeper Senti una cosa Lascia stare Perché si sente male Si sente malissimo Scrivici in live Scrivici in live Infatti Facci domande in live E' l'ultimo Vabbè Mentre ragazzi Io faccio il torneo Dell'Italia Italia Egitto Prossima partita No devo fare sto baule Della corona Ti immagini Stavo leggendo In live Due giorni di prima Me ne vado Cioè esci da questa casa Ventura Io ho 125 iscritti Io avevo un vecchio canale Di 300 e tanti iscritti Quasi 400 Si chiamava The Falcon Madò Che formazione di Varzaghi Bonucci Bellino Oh C'è zazza C'è zazza Ok buona Cosa mi piace Vinceremo sicura Te faccio il cucchiaio Stai farci il cucchiaio Alla tot Perché tot Totti fa il cucchiaio Nei rigori Alla pelle A posto di mobile Via Eder va fuori E ci butto Forza Iubel Insigne Usquignizza Usquignizza Napoletano Che ci fa Florentino Attacco Infatti lo sto togliendo Lo mettiamo a posto di parolo E parolo va cambiato E ci mettiamo E Sharawi C'è zazza Io ma non lo metto Non lo metto Non lo metto Se mi paghi C'è 36 Madonna Bella Ventite il commento Guarda il commento Com'è Allora Mi sponsor Mi sponso Va bene Ragazzi Iscrivetevi al canale Di Mr. Kevin E Creeper Bianco E Frenix Cioè dovete iscrivervi A 3 commenti Ciao TSMC Ciao Ciao Spookoges A me l'avrò detto malissimo Spookoges Insieme a sta partitozza raga 3-4-3 3-4-3 No 3-4-3 Tu hai detto 4-3 Insegna Scusi Mezza una volta Persino se faccio un gol micidiale Facciamo rivedere il replay Fateci domande raga Ci stiamo annoiati Cioè abbiamo fatto questa live Tanto per Perché altrimenti Non la facevamo Se non veniva lui a casa mia Io manco c'avevo la testa Per registrare Lui non mi ha detto Oh registriamo Che andreva Ancora che andreva Antonio che andreva Attenzione Attenzione piccione Madonna Per tiro Cioè piedi fucilati Maltissimo Dai raga Fate domande Madonna è partito Chiellini 24 commenti Madonna Chiellini 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 Alla partita di calcio Hai visto? Girate la videocamera Alla partita di calcio Lascia stare Per bianco Ti sponsorito Mi porti 5 iscritti Iscritti con due team Non te lo vorrei dire Vabbè No Lasciamo stare Per girare la telecamera Perché Non ci avrebbe senso Se no facevo Direttamente una live Su FIFA Se volevo Ma volevo fare un vlog Così Sto aspettando a voi Io per ora gioco Vabbè dai 20 secondi Torna Andre Dai che andremo Che piedi storti Madonna Che gol Che prima No non mi ha dobbato Che prima c'avevo i piedi storti No I reply Prendete la camera Oh yeah Belli gol Lascia 27 commenti Oh Mi raccomando Iscrivetevi al mio canale Che bello Che so Guardiamo un po' Che il gol Aspetta Guardiamo Guardiamo un po' Che il gol Aspettate che vado indietro Ok almeno qua credo Sì sì In teoria Ah qua Ehm Due Voi avanti Tre Tre Ok C'avanza raga Raga Torna indietro C'è tira di Perfetto Pum E poi in acrobazia Pum Sprendi due gol Complimenti 27 commenti Ok Vabbè iscrivetevi al mio canale Dai Si chiama Aspetta Freni Se hai il box Si dovrebbe chiamare Freni 1 a 0 per l'Italia Italia G Vabbè Vi porterò video Aspetta Vi faccio vedere il canale De Rossi De Rossi De Rossi Bel tiro Oh Dio Andraeva butta in mezzo Perchellini di testa Portiere pari Cioè che lini fa Malzaghi Butta dentro Rigore Rigore Questo lo registri Questo lo registri Però Ho 31 Quasi Maximus Ti voto Vabbè Altri account Va bene Altri account E mi scrivo Va bene Mr. Kevin Registro Sto rigore Aspetta Va bene Aspetta Per loro Aspetta Aspetta Che il camion Allora ragazzi Che facciamo tirare Ho scoglietto Una voletana Allora Dai forza E lo tiro Dai Gole De Lorenzo Insigne E dub E dub Pum 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 Guardate Questo è il canale Ieri ho fatto la presentazione Del canale Si deve chiamare Cellbots Si chiama Cellbots Raga Lo sai Vi saluto Stafed Stafed I Ma chi ave Comunque Questo è il canale Ieri ho fatto Il primo video Si chiama 2-0 per l'Italia 2-0 per l'Italia Si chiama Cellbots Però Va bene Aspetta Ci sono tre persone in live Ma ci sono quattro E' appunto Madonna L'Egitto 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 Qua prendo gol Se non la paro a Buffon Prendo gol Raga Secondo account Madonna Va bene Ah Quello è con l'altro account Si Clash Krippel Si 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 E' nuovo questo account Clash Krippel Non lo conosce Perché mi dice Server in Di che cosa Clash Si 13 minuti Forse perché Stanno facendo Degli aggiornamenti Giaccherini Mamma mia Gioca benissimo Madonna Che voglio dire Cioè Qua 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 Bello però Madonna Porca La miseria Fai una live Su Minecraft Per favore Dopo Allora Per la live Su Minecraft Magari giochiamo Non lo so Raga Perché Oggi Non vorrei Esagerare Con le live Forse un video Canonata Devastante Poi Vado a pare Pum 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 Vedete Sto gol Fantastico Aspetta Aspettate 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 Che vi nascondo Sto cosa Guarda che ha fatto Il charawi Tutto in mezzo Io arrivo Perfettamente Si gira E poi Pum Cannonata De Florence 3 a 0 Per l'Italia Lascia i commenti Così No Non li lasciare Così Perché No è brutto Cosa no Ci veda male Madonna Non riesco a stare Senza clash 7 mi piace Vabbè Io mi vado a fare Una partita In Ultimate Team 7 mi piace 37 commenti Quarto account Eh vabbè Un altro La Life Crew Ah iscrivetevi A Life Crew Cioè Vi dovete iscrivere Al canale di Mr. Kevin Tripper Bomba Quello di Frenix Quello di Frenix No raga Perché È brutto Niente Non lo spiattano Allora Questo no Allora Ultimate Team Che cosa mi danno Niente Cioè Per avere Battle Unimport Deve essere Livello 16 No È che livello 6 15 Dobbiamo ancora Gli youtuber Saranno Livello 100 Qualcosa del genere Perché Loro hanno giocato FIFA 13 FIFA 14 FIFA 15 Giacomo Un mio video Raggiunto 687 Visualizzazioni Non sono niente Perché lui Nel suo video Ha raggiunto 2000 Visualizzazioni Nel vecchio canale Eccolo qua Abbiamo trovato Royce Nel vecchio canale Per 5 partite Royce88 In prestito Tranquilli Fateci domande Nel vecchio canale Di 380 iscritti Da Falcon TM E praticamente Avevo Cioè Avevo fatto Sto video Era tipo Random Manco Sapevo Di aver trovato Madonna Non lo sapevo Se c'era La principessa Fai vedere Sto squadra Della settimana Aspetta Mamma mia Buonissimo Madonna Se troviamo Uno di questi Live Cioè Raga Allora Messi Balotelli Pianic Cioè Guarda qua Messi Poi No Aspetta Così Aguero 93 Balotelli 88 82 C'è Buon modo Debruni 93 Una bestia Il Lavendi 83 Buono Pianic 87 Forte Giordialbo 88 Una bestia Astori Debole Abrahim Bauman Una bestia Ha bugato Da morire Bauman Vabbè Andiamoci a Per fare una partita Online o singolo Allora Prima devo Ciao Un altro Ciao Mr. Kevin Mi posso iscritto Mi sono iscritto Quinto Com'è male Ciao Idrullimini Ah è inglese Here Hello My name is Franitz My name is Maximus Giuro che domani Sul mio video Ti sponsorizzo Mamma mia Tanto io ti suego Su YouTube Allora Guarda la mia Forra Magari Sei sponsor Guarda chi c'ho qua Rugani È salito 80 L'ho visto l'altro giorno Mi sto leggermente annoiando Non voglio dire Quanto personaggi c'hai spesso? Rob Compa Byrnei Man Non voglio parlare quella lingua Aspetta Di dove siete? Eh cosa ho privato? Palermo Vabbè Palermo Ah beh si può dire Palermo Sicilia Palermo Sicilia Non so Non siamo di come La B è da Sicilia Can you speak inglese? I speak in italian Italian Eccolo qua Royce I'm game FIFA 17 Oh yeah L'inglese è scorreggiuto Scorreggiuto Grazie Mr. Kane Yes Can you speak inglese? Vabbè Sì io do il contratto a Rugani Iscrivi tu mio canale Si chiama Sellbots Where you guys from? Aspetta you from? No you from sarebbe di dove siete Siamo allora I from Sicilia Palermo Palermo Almeno credo sia questa la domanda Palermo Palermo Cerco sul traduttore Traduttore No non c'è bisogno Io from no Cioè questo abbiamo fatto le cose di inglese Manco le sa lui Due giorni fa Sì due giorni fa Che l'abbiamo fatto ieri Due giorni fa Va bene Come dice lui? Va bene Come dice lui? My name is Avete dieci anni Palermo Undici My name Mr. Kane Rispondo in inglese No vabbè se ci fa domande Dai fateci domande in tanti In tanti Andiamo Bella partita con Royce Importa Sirigoo che non passa nessuno Sirigoo 8 mi piace Se arriviamo a 10 Abbiamo detto che Che è? Che mai usiamo questa blow? Sì perché altrimenti quello si picchia Abbiamo anche tutti Eh c'è Royce Allora c'è Ah no quello sono io No vabbè Andiamo alla sua squadra No madonna Madonna Eh tutti dall'Everton Cioè sono tutti bugati però Madonna Questo è una massacra Madonna Rispondo io Ehm In better than you I don't know Eh Don Tasted Dice di non usare Penso Google Ok Se non capisci usa Google Forse stava scrivendo Vabbò Eh Si vede che questo ama l'Everton Cioè tutta la squadra è Everton Stai l'Everton Allora tu Questo inglese Iscriviti al mio canale Canale YouTube Eh You dry lumini Eh I you Iscrivi Iscrivi My canal Eh You canal My my Vabbè dai Almeno credo Te lo immagini stiamo giocando contro un fan Eh lo so Ecco Cioè Vabbè Cioè ma è troppo bugata la sua squadra Dai ti ha già segnato praticamente Sì Ho già forte sfortuna lui Royce Madonna Quanto forte da 1 a 10 7 Eh va bene Maximus Anche a te Eh Mr. Kevin Magari se ti Madonna 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 Con la squadra bugata L'abbiamo segnato Vabbè Ehm Praticamente se magari Dice che non se capite Usare google traduttore L'avevamo capito creeper Eh Mr. Kevin Magari ti iscrivi al mio canale Dai è una zera Uhhh Finalmente Clash Royale Parte E vabbè Madonna Che ho fatto Non voglio portare i miei iscritti I tuoi iscritti Al mio canale No vabbè Andatevi a iscrivervi al suo canale Che ne ha bisogno No vabbè E' un poverino Un poverino Io rimarchio Se vuoi Ehm Ehm Milinun Hai Sub Maximus Ok Cerca sul traduttore Sa Lascia stare il Clash Royale Mamma mia E scarico l'app Oppure Ehm No google traduttore normale Vabbè Su internet Dice si è iscritto Grazie Ehm Dillumini Thank you Thank you Ehm I'm 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 Shish Ehm Dice Please Ehm Aspetta aspetta Please I I Iscrivi Iscrivi Ehm Forse Canal Forse si è iscritto al mio canale Aspetta Ehm Cerca cosa Ha iscritto Cosa dà Italy E yes Italy Ehm Yes Italan Italy Italy E aspetta Dice di fare Iscritto Ricambi Ehm Yes Ehm Dopo Ehm Dopo come si dice in inglese Sopra Cercalo Cercalo Cerco Ehm Un attimo Si italiani Italam Italam Ehm Where are you from? Ehm Che devo scrivere? Ehm Quello là Italy Ehm Cosa vuol dire Come si dice Madonna Salvo Iscritto Ricambi Questo qua Ah ok Allora Un attimo Raya Ehm Super Ehm Maxi Is Super Maxi Ma buono Lo scrivere Maximus Vabbè dai Allianz Abbiamo capito Grazie Lumi che Drallumity Drallumity Si chiamosi No Aspetta Ah si ok Comunque si dice Canal Ehm E comunque si dice Channel 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 Vabbè Vabbè dai I'm from Finlandia Finlandia Abbiamo un amico Finlandese Ehm Yes I'm I'm Shish I'm Ehm Creeper Bianco Scrivi Iscriviti al canale di Friends Ehm I'm Shish I'm Fucking Spish Madonna se te segnava di rovesciata Come ne andavo Madonna Si dico 73 iscriviti Io Lui Cosa Madonna L'hai visto Non riesco ad avanzare Perché sono Che poco Vicente Ma Aspetta Andando a controllare Ma Cioè 73 iscriviti Veramente O Madonna Madhouse Compact Cioè Se non le sei tu Queste cose Chi le deve sovere 64 76 Ehi 76 iscritti Iscrivetevi al canale Ragazzi Se arriviamo Allora Quando arriviamo A 100 iscritti E' normale Che farò lo speciale E farò una canzone Raga Mi organizzerò Ehm McEvin Con questo account Iscrivetevi al mio canale Ehm Ok Zero spettatori Ok Posso staccare La live Ah Poi ragazzi Siamo solo A 30 minuti di live Ancora la live E' molto lunga Un'oretta di Di più Qualche 5 ore Dì vabbè Quella contiene Tu ovvio Dio Due orette Qualcosa Qualcosa per Magari Farli stancare un pochino Si vanno a fare una doccia E poi se ne vanno a letto Che domani C'è la scuola Brutta Ehm School Fuck Fuck School Oh yeah Fuck School Fuck Comunque Thanks Dallumini Per Thanks You Sub Subcribe My channel Ok Vabbè Speriamo che l'hai detto bene Madonna 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 Tu lo capisci Madonna 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 Qua dire se è successo cresciuto Dei iscritti 21 22 22 22 mi piace Allora Avevamo detto A 10 mi piace Ora mi ricordo Che 80 iscritti 80 iscritti Allora Cioè se arriviamo a 100 iscritti Oh raga iscrivetevi al mio canale Please Ragazzi arriviamo a 80 iscritti Io faccio una canzone Ve lo dico Madonna Non ho fatto No finlandese Che traduccio Questo Sono finlandese Che traduccio Ah Ok 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 Non ho capito Sono È finlandese Che La traduccio Ah Ok Comunque Allora Scrivi Allora Se ce la fa Allora You I'm Scriv Non si Non si dice Scriv Rad Read 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 Eh Eh 30 30 like Iscrivetevi al mio canale Dai che sarò povero Madonna 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 Ti ho portato 19 iscritti Grazie Madonna Eh Iscrivetevi al mio canale Per favore Ragazzi Arriviamo a 100 iscritti Vi ho detto Che vi porto Una canzone Con questo canale Ok Eh Mr. Kevin Salva Aspetta Santo Dio Aspetta Aspetta Mi iscrivi al tuo canale Tu ti iscrivi al mio E' 19 like Eri il mio stato Eri il mio stato Del canale di youtube Sarvi da parlare italiano No salvo No salvo ha tradotto Stato sarebbe la home Ehm I'm thanks Ehm Ehm I'm Oh Home Ehm Corretto Ehm Finito primo tempo Mr. Kevin Player Royale No Mr. Kevin Terrettino basso Aspetta Terrettino basso It's it Quello Se tu non mi loggi Nell'inizio c'è Mr. C'è l'altro Trattino basso Su un canale tuo Boh Mmm Oh io sono iscritto Al suo canale Vedi L'altro giorno Mi sono guardato Un suo video E come farevi Boh E' uno dei miei migliori iscritti Infatti Mi hanno giocato Su minecraft Leggenda di cestia Madonna Dimmi Il nome di un tuo video Magari che ti cerco Direttamente là Sirico Sirico Madonna Che ho fatto Il nuovo Clash Royale No aspetta Mi ha aggiornato Madonna Che palo Di tacco Ci ha provato Ma c'è uscito Il nuovo Clash Royale In che senso Meglio Di questo Almeno Credo Almeno Mi cugino Mi ha detto Qua Madonna 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 Questo è bello Questo è bello Salvo 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 Madonna Madonna No 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 Questo è divertente Da ascoltare Quando non capisco Niente che tu dici Ha detto che non capisco niente Quando ti puoi scrivere I'm a I'm a I'm a I'm a I'm a I promise Just do it I'm possible Impossible Speaking English Just do it I'm a Impossible Impossible Compara Possible Scarface Bro Tu magari Se iscrivi Il mio canale Allora Allora Io lo dici tu Che sono i tuoi iscritti Cattio D'Illumini Madonna 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 Scrivimi un tuo video qua nei commenti Fogli sti commenti Santo Dio Che non ci vediamo Siamo a tanti Guardati tu i commenti No Madonna Che parata Sirugu Sirigu La finta del tiro Gli ho fatto Sai come si fa? Un attimo Si Come? Un attimo Aspetta Se capisci quello che ho detto Colpisci il ragazzo In mano Lui l'ha Cercavi con questo canale Gli iscritti Se capisci quello che ho detto Colpisci il ragazzo In mano Quale ragazzo? Non abbiamo nessun ragazzo Mi basta Aspetta 88 Che cosa hai fatto? Io niente Si è bloccata la live Che bello Il telefono Mi sono scossato Ah no Cambiato solo la visuale Mizzichi in un infarto Fammi vedere come si chiama Mister O Dove si trova? Compà dove sei? Già lo chiamo compà Non ancora lo conosci Sappione 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 Va bene Perché mi ha colpito Tu sei quello che mi voleva Mi voleva far rimazzare Maledè No ma l'ho detto In inglese Va bene E fammi vedere come cacchio Salvo Sei credente Questo l'avevate capito Dalla sua presentazione Ragazzi Comunque lui ha fatto vedere Il quadretto di Buffon Un'altra Ehm Sa Sa Che è? Sa Chi è? Ha partito Una E compà Non ti trovo C'è ho scritto Mister Va bene Mi hanno segnato Cioè Così fatte Rappia La via Il mio video si chiama Cest opening Senza leggendario Va bene Cest Madonna Royce Madonna Madonna Santissima Veramente E' giusto Andare in Italia Sì Per me è una bella città Palermo Dallumini Ehm Haim Italy Yes 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 Ehm Haim Bergamo Che Bergamo? Ha bello Bergamo Non l'ho trovata Anzi Roma Ma porca miseria Basta Mi si dio Sclero troppo Ehm Non lo trovo Bene raga Dopo il mio Ridge quit Io direi di concludere La live Mi raccomando Iscrivetevi Non è vero Non è vero Bastardo Mi stava facendo Vedi commenti Controllate gli iscritti Ehm Allora Mister Kevin Faccio una cosa Vado nel video di Maximus E scrivi un commento Magari Che bello Sempre con questo Dalla Madonna 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 Chat Dalla live Ehm Ehm Questo Questo Bellissima la mia caduta Cioè guarda non mi riesco ad alzare Come si fa a mettere il link del mio canale Questo è il mio canale Ok Ah un attimo che clicco sul Vai al canale Ok mi sto iscrivendo al tuo canale Ok Ma tu quanto è C'hai quanti iscritti 131 Ok Mi sono iscritto Ok Ma io Oh dai Ehm Allora ti ho portato 5 iscritti 100 commenti Fai io Mister Kevin Allora Ti ho portato 5 iscritti Aspetta Devo cambiare l'immagine Dal mio profilo Io vado a prendere l'acqua Va bene Vuoi acqua? Non si Un attimo che tipo Il post che ho su Come si chiama E' bruttissimo Il post vabbè Il canale No Non so perché mi ha fatto disconnette Ok un attimo raga Ancora 100 commenti Bevi nel mio stesso bicchiara? Sì per me è uguale Ovviamente beva il canale Il mio canale 101 commenti Vediamo un po' chi ha Ehm PLC PLC Non capisco Domani Lo faccio domani Ok Se si dispone Di Overwatch Se si dispone Non Se ne è andata la Russia 3 iscritti Grazie Vabbè 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 Sei dispone Di Overwatch Allora Overwatch Io ci ho giocato solo una volta E non mi piace Perché non posso fare due video in un giorno Ok mi sembra che mi sembra che avevi presso in giro Però l'ho diventata toccata Ok Un attimo Porca mia Non voglio cambiare account Quell'account Te lo infilo Ehm Compaio No good Queste cose Non dire Perché questa si chiama No non bevo Corri subito Non bevo Me ne è vero Sto scherzando No 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 T'ho sentito Cazzo Scusate per la parola Non volevo dire Scusate Ora ti Ti bloccano il canale No Me lo bloccano Ma io Io gli dico Che ieri Ma aspetta Questo è il mio telefono Perché non mi fa cambiare pulire Ma No 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 Ti hai svuotato Ma cosa Dai scrivete Fate domande Fate E quali telefoni cellulari avete Wiko Wiko Leni 3 Mi vuoi moderatore Non so come si fa Io ho Samsung J5 2016 Ci rintraccio la realtà Solo rompo Lo portavi Direttore Ma vabbè Perché lo sai E' il mio canale No Lei è il mio canale Porco mi serve E' vero Cose private La live Sono gioia Cioè se tu dici una parolaccia Te la bloccano Perché L'avevamo fatto insieme a Creeper Perché uno aveva bestemmiato più di una volta nella mia live E quindi l'avevamo bloccato E abbiamo bloccato tutti i commenti impuri che ci possono stare Perché non mi fa modificare più la foto Cacchio mi devo tenere sta foto di cacca Noi scherziamo il video Ma io c'ho una foto di cacca Ma poi non è che la tua faccia sia meglio Ragazzi fateci domande Ultimo video 2 mi piace 3 iscritti 109 di chi Controlla gli iscritti 61 sono E' 61 Raga se arriviamo a 100 iscritti esce la canzone che ricordo Perché ovviamente io non lo aiuto Ma tu parteciperò Si me lo faccio 81 Dai ragazzi 111 commenti Chiudi Non ora Dai No porca la miseria Devi rimorchiare Devo rimorchiare qui Maximus qual è il tuo vero nome? Eh cosa è privato Cosa è privato Mattia Oh fai sentire la chiamata Ah buonissimo Siamo in live Non so cosa è privata Digli lo siamo in live Non possiamo parlare Siamo in live Possiamo parlare Ma che cazzo Non ho capito Costo chiamata 65 centesimi Non ho capito che hai sentito nella chiamata Non lo so Non lo so manco io ti giuro Ragazzi Pana normal Nella live Aspetta ci dico perché mi chiamo Ah non lo so Fai vedere le tue chat in live Fai vedere Ora vi darò il numero di Questo qua Allora 333 Allora 333 Allora 333 369 333 No ragazzi scherzavo Allora il suo numero è 33333333 6 Capito Perché mi sono sentito uno che mi parlava Un maschio Però Puoi farmi Puoi farmi una pizza e mandarmi un posto Qui in Finlandia è piuttosto freddo Perché la Finlandia è il quinto paese E vabbè facciamo che Perché Chiudi, 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 chiudi Pronto Ma che cazzo Ehm Ehm Perché Chi è amica Iris Ma che cazzo Ehm Siamo in live Diggielo porca miseria È straniera Straniera Lei viene Svizzera Ehm Non è niente Ce l'è il mio amico Aide Provice Cazzo Chiudi No 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 non chiudere Non chiudere È la mia unica speranza E no La posso rimorchiare Fermo E ciao No no non chiudere Non chiudere Siamo in live Siamo porca miseria Ha chiosto Ma ora ti devi Non puoi chiamare Scusa Ok dai Non la chiamare oh Se ti chiamano non rispondere Siamo in live No è la prima volta Ho capito ma siamo in live Eh beh beh che me ne frega Siamo in live Non rispondere Allora ragazzi vi do il suo numero 3 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 6 5 5 5 4 2 Ci siamo conosciuti In random musica No E lei ti ha dato il suo numero Questa è privata Sì sì T H Z Disco Ragazzi c'è qualcuno in live Sei traspettatore Tutti muerti Ok Hai detto che tu è spagnolo Svizzera Allora italiano No eh sì Siete svizzera italiana Frenix ma cosa vuoi fare Abbonamenti Al mio canale O ti mangi Frenix che vuoi cosa vuoi fare Cioè stavo rimorchiando Cioè questo mi viene a schiudere la chiamata Cioè era la prima cosa Cioè si rimorchi Il live Ragà dai Cioè allora Io non lo so Cambia nome Sì Ok Dichelo non possiamo Non mi Non possiamo stare In chiamata Svizzera Della Calabria Allora è italiana Dico Eh svizzera Così Dichelo non posso Sono in live su No magari 18 Su internet 116 commenti Tra poco siamo Un'ora che stiamo in live Ma santo Dio Io cambio sempre Ti vuoi Ti vuoi fare cose brutte Scriverti Iscriviti al mio secondo canale Ok Addio Mondo crudele Ok Rimorchiolatia No no dai dai No ammazzate con Rubesce Scriviti al mio Scriviti al mio Scriviti al mio Cosa No 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 Non ci tengo più Dai qua ci sta il mio Telefone Che poi ho un telefono Enorme Cioè guarda Dove è il mio telefono Più grosso Là Siamo sani Là Ah ci sono 119 commenti Come si chiama Ok What's 100.000 like che cos'è? 100.000 like 120 sono stato in bancazza a roma ah quando ci sei stato per il games week? aspetta prima inizio non fare cose nel coso vabbè non puoi sapere se io faccio cose con... troppo vuoi sapere troppo troppo vuoi sapere ok giuro che la prossima